Passi avanti per l'avvio della riqualificazione delle aree di risulta della stazione di Pescara. L'accordo istituzionale firmato questa mattina a Palazzo di Città fra Amministrazione Comunale e Regione rappresenta infatti un punto decisivo per poter dare avvio ai lavori in un'area strategica che da troppo tempo aspetta di diventare il nuovo cuore pulsante del capoluogo adriatico. Sono 33 anni che si aspetta questa firma, un importo importante, 15 milioni e 900 mila euro. Noi entro dicembre faremo in modo che il bando per l'area di risulta finalmente possa partire perché noi entro il 2021 individueremo il soggetto che realizzerà le opere all'area di risulta scambiando totalmente il volto della città perché come sappiamo quei 13 ettari sono un giacimento importantissimo per Pescara e noi faremo verde circa 70 mila metri quadrati grazie alla Fondazione Pescara Abruzzo faremo parcheggi finalmente definitivi per Pescara, sistemeremo la mobilità e la viabilità in quella zona a servizio del centro commerciale naturale. Una trasformazione epocale doveva arrivare, adesso è arrivata.